Sembra essere un buon periodo per Emma Marrone, sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. Il settimanale Chi racconta ciò che è accaduto dietro le quinte del serale di Amici in cui Emma è coach della squadra bianca. A quanto pare infatti in occasione della registrazione della puntata andata in onda sabato scorso, Emma si è presentata accompagnata dal calciatore Fabio Borriello, che durante le pause non faceva altro che coccolarla. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, il loro atteggiamento era inequivocabile. I due qualche settimana fa erano stati fotografati insieme in un locale di Milano e si vocifera fosse proprio Fabio Borriello il misterioso accompagnatore della vacanza parigina della cantante. Proprio durante la puntata di sabato Virginia Raffaele, nei panni di Belen Rodriguez, aveva stuzzicato Emma con battutine su un suo presunto fidanzamento, ricevendo delle risposte sibilline. Alla domanda sei fidanzata? La cantante Salentina aveva infatti risposto con un ironico può essere ma non mi sembra il caso di presentartelo.